Trasferta insidiosa per la fortitude Agrigento nell'ottava giornata del campionato di Serie A2. La squadra allenata da Coac Franco Ciani sarà di scena domenica alle ore 18 sul parquet del Palabianchini di Latina. Le due formazioni sono divise in classifica da 4 punti. Agrigento è una delle due vice capolista del girone con 10 punti e la Latina insegue a quota 6. Entrambe le squadre sono state sconfitte nel turno precedente nonostante la buonissima prestazione. Agrigento si è resa in casa ad un superlativo treviglio mentre i neroazzurri hanno perso a Scafati per 102 a 92. Priva di Patrick Baldassarre, infortunato, la squadra di Coac Gramenzi ha messo in mostra un ottimo stato di forma di Carlson e Leverance. Bene anche gli italiani Cassese, Fabi e Allodi. Sarà dunque battaglia tra due formazioni che vogliono subito rilanciarsi nel campionato. La fortitude Agrigento finora fuori casa è stata quasi perfetta. Tre trasferte e due vittorie contro Biella e Bergamo mentre la sconfitta è arrivata a Ferentino contro la Leonis Roma. Coaccio Fraccociani potrà contare ancora una volta sulla buona forma dei tiratori Evangelisti e Pepe e dalla crescita degli americani Cannon e Bell che se in giornata sono in grado di fare la differenza. Tutti gli altri sono pronti a dare il massimo per centrare la vittoria.